Nella Varese raccontata dai magistrati non si muove foglia che Nino non voglia. Cari Agnello, sottolineano gli inquirenti, era coordinatore di fatto di Forza Italia, amministratore di fatto di società pubbliche come H, Amperalpi Servizi e Alfa, capo di fatto del centrodestra. A lui spettava il compito di decidere nomine e candidature, promozioni sul campo e esclusioni, e se c'era da trattare, al tavolo sedeva sempre il cosiddetto mullà. Varese, insomma, si era abituato a un sistema di potere che prescindeva totalmente dalle cariche ufficiali, perché Nino Cari Agnello di ruoli non ne aveva né in Forza Italia né altrove, eppure agiva come se li avesse avuti. Agiva da plenipotenziario e nessuno si è mai sognato di metterne in discussione la leadership, nemmeno gli avversari. È un territorio anestetizzato, quello dipinto dall'inchiesta che settimana scorsa ha terremotato la politica lombarda ed è capitato i vertici provinciali di Forza Italia. Un territorio che per anni ha vestito di normalità un'anomalia e che oggi sembra svegliarsi da un lungo sonno. Lo si legge chiaramente negli occhi di assessori, consiglieri comunali, militanti azzurri e coordinatori, persone estranee alle indagini, ma a loro volta sconcertate, spiazzate, orfane del loro capo. Perché se ad essere finito in carcere fosse un segretario di partito, fermo restando lo shock, basterebbe procedere ad un nuovo congresso, ad un fisiologico ricambio. Ma in questo caso ad essere caduta sembra essere l'intera Forza Italia che paga il prezzo di aver appaltato la sua guida provinciale a un singolo individuo, gravato da una pesante condanna e privo di credenziali che ne giustificassero la leadership. Ma al di là degli eventuali reati che non spetta a noi accertare, è sulla politica del Varesotto nel suo complesso che grava un'enorme responsabilità. Chi era in Forza Italia ha accettato passivamente di prendere ordini da una persona che di quel partito non aveva neanche più la tessera. E i referenti degli altri partiti di maggioranza e di opposizione hanno accettato per anni di condividere il tavolo delle trattative politiche con chi non aveva alcun titolo per sedere a quel tavolo, concedendogli di pilotare le scelte che più o meno direttamente andavano a ricadere su servizi delicati, dalle nomine nella sanità pubblica, alla gestione dei rifiuti, dal destino di un inceneritore fino alla distribuzione dell'acqua. In questo senso non è la magistratura ad aver invaso il campo della politica, è la politica ad aver delegato ad altri il compito di accendere la luce in una stanza che per molto tempo a quasi tutti ha fatto comodo tenere al buio.